Ieri sera, esattamente a un mese dal Via Libera in Consiglio dei Ministri, il cosiddetto Decreto Dignità è stato approvato dalla Camera, con 312 voti a favore e 190 contrari, senza modifiche sostanziali. Fortemente voluto dal Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, che ha seguito per tre giorni il dibattito in aula, il provvedimento si occupa in gran parte di lavoro e imprese, con l'obiettivo di aumentare i posti fissi e diminuire il precariato. La durata dei contratti a tempo determinato viene ridotta da tre a due anni. Ridotto anche il numero dei possibili rinnovi, da cinque a quattro. Aumenta invece da quattro a sei mesi la scadenza per l'impugnazione del contratto e l'indennità per il lavoratore ingiustamente licenziato. Sconto fiscale invece a chi assume un lavoratore con meno di 35 anni. Vale anche per le famiglie che mettono sotto contratto colf, badanti e babysitter. Per quanto riguarda la scuola, via il tetto dei 36 mesi per i precari e proroga di un anno o più concorso per i maestri senza laurea. I voucher avranno una durata massima di dieci giorni. Per l'agricoltura è prevista una semplificazione. Il decreto mira anche a contrastare la delocalizzazione. Le aziende che spostano le attività fuori dall'Unione Europea riceveranno sanzioni, da due a quattro volte l'importo di cui hanno fruito. Qualche misura anche a livello fiscale. Rivisto il metodo di determinazione del redditometro è abolito lo split payment, cioè il trattenimento diretto dell'IVA da parte dello Stato nei rapporti con i fornitori. Per quanto riguarda la febbre del gioco, un'epidemia nel nostro paese, il testo prevede il divieto di pubblicità per giochi e scommesse. Chi trasgredisce pagherà una multa salata. Il 20% del valore del contratto, grazie a un emendamento di Fratelli d'Italia. Approvato anche un emendamento del PD che obbliga a mettere sui gratta e vinci la scritta «Nuoce gravemente alla salute». Adesso il decreto passa all'esame del Senato. L'obiettivo del Governo è farlo approvare all'inizio della settimana prossima, prima della pausa estiva.